Il freddo è arrivato tardi quest'anno, ma in maniera così improvvisa che rischia di combinare danni. Infatti il gelo intenso di questi giorni può danneggiare le categorie più fragili, come bambini e anziani. Oltre l'incremento di sindrome influenzali, le basse temperature possono causare una recrudescenza delle malattie croniche, specialmente dell'apparato respiratorio, cardiovascolare e di muscoli e scheletro. Abbiamo chiesto a un medico una serie di consigli per evitare le conseguenze più gravi. Penso che la cosa principale è vedere di poter migliorare, anche se non tutti gli ambienti della casa, perlomeno quello dove si sta più frequentemente, in maniera tale che sia veramente riscaldato opportunamente. Se si è costretti ad uscire, naturalmente vanno messi tutto ciò che sono i rimedi, da cappelli, guanti, scialle, sciarpe, tutto quello che si può prevedere per poter camminare all'aperto. Per le persone più anziane è importante contattarle frequentemente e assicurarsi che assumano pasti e bevande calde, evitando gli alcolici che non aiutano a mantenere la temperatura corporea, contrariamente a ciò che si pensa normalmente. Passare da un caldo a un freddo eccessivo, tanto per dire il passare da un ambiente all'altro, dalla camera di soggiorno che è ben riscaldata a un bagno freddo, lì bisogna stare attenti. C'è un'alimentazione per questo periodo dell'anno specifica? Sì, di solito si preferisce mangiare cose che siano leggere, frequenti e nutrienti.